Lidia, ringrazio per 25 anni di televisione pubblica, sei stata una grande inspirazione per me, per la mia squadra, per la mia tutta la carriera. Grazie per tutto che ti faccio. Sorpresa! Cara Lidia, volevo farti una marea di auguri per questo meraviglioso traguardo che hai raggiunto. Sono davvero orgoglioso di essere un tuo amico e di avere anche lavorato con te. Che dirti, davvero tantissimi auguri perché tu sei una donna straordinaria, ma soprattutto sei una grandissima chef e hai raccontato in America, non solo, ma anche in giro per il mondo, la grande cucina italiana, la grande storia del nostro paese. Che dirti, allora ti mando un grande abbraccio, sono felice per te e spero di vederti presto, magari anche negli Stati Uniti. Ciao Lidia! Tanti baci! Lidia, mio amore, ringrazio per 25 anni di televisione in pubblica, grazie. Grazie a tutti. Lea Lidia, siamo molto felici di avervivenci con noi per 25 anni, per l'incredibile lavoro che hai fatto. Grazie, 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 e happy cucinale. Grazie a tutti, Lidia, per 25 anni di excellence. Che posso dire? Sei la migliore, la migliore madre, la migliore sorella, la migliore sorella e per me la migliore amore. God bless you, Lidia, 25 more years of tremendous success. Ah, Lidia, volevo farti tantissimi auguri per i tuoi 25 anni di televisione. Sei stata bravissima, hai fatto conoscere la nostra cucina italiana agli americani, che hanno, grazie a te, imparato a mangiare bene. Il tuo ristorante è strafamoso, ma soprattutto tu sei bravissima nel divulgare, nello spiegare la nostra grandiosa cucina. Lo sai che ti voglio bene, ti aspetto sempre in Italia. Appena vieni, ti aspetto nel mio mezzogiorno. Un bacio grande grande. Auguri, auguri, auguri. E brava. Hey, Lidia, it's Jeffrey Zakarian. I just want to congratulate you on a lot of things, but 25 years on public television, teaching people about really basic Italian cuisine or what it means to do things correctly, because you're all about doing them correctly with the simplest of ingredients and the best things. So, Lidia, from the bottom of my heart, I just want to say thank you so much for teaching us so much on public television about how to cook Italia. Ciao. Lidia, I can't even tell you what a joy it is to say I can call you friend. Congratulations on 25 years on public television. You are an inspiration, you amaze me, you're a joy. Here's to 25 more. Cheers. Ciao, Lidia. Congratulazioni for the 25 years in the public television. Sei l'orgoglio dell'Italia. Hi, Joe Mantegna here, congratulating Lidia on her 25th year on public television. Her story of coming to America and living the American dream is very similar to my own family history. She makes me proud to be an Italian-American, and I would have that pride even if she couldn't boil water, which we all know, she goes way beyond that. Buona fortuna, Lidia. Hey, Mom, congratulations. 25 years on public television. You are the OG, that means original gangster, of cooking on television. Couldn't be prouder. You are the best. We love you all. Keep on rocking on. And here's to 25 years of being the queen of American public television. Congratulations, Lidia, on 25 years on public television. What an amazing achievement. Congratulations, Lidia. Congratulations, Lidia.